Ciao ragazzi di Soundwall. Ciao Soundwall. Ciao Soundwall. Siamo abbastanza rilassati al momento. Come potete vedere. Noi siamo molto ispirati da Soundwall. E... cosa possiamo dire? Che dire? Tutto ciò è stato spontaneo. Soundwall è un portale che ti fa riflettere. Che ti dà ispirazione e che ti fa essere numero uno. Read it. Stop. ... Dovete... ... ...